Un bicchiere d'acqua, una candela e un kit misterioso che si trova solo a Capodanno in Germania. Vediamo a cosa ci servono. Buongiorno e bentornati sul mio canale. Oggi ultimo video dell'anno e ho deciso di fare con voi una cosa che non ho mai fatto ma ho trovato questo set e quindi ho detto come potrei io non fare quest'ultima cavolata dell'anno? Ovvio. Allora abbiamo una candela, un bicchiere di acqua fredda e questo kit che andiamo ad aprire che è costato 2,35€ con un cucchiaio di metallo e dei pezzettini di metallo a forma di portafortuna che andremo a scogliere. Ovviamente ne scegliamo uno, non li scegliamo tutti e quattro. Io prenderò il portafortuna a forma di fungo. Adesso vi spiego che cosa facciamo e perché ma prima di tutto accendiamo la nostra candela. Allora i tedeschi sono un pochino superstiziosi. Infatti se nel periodo tra Natale e Capodanno andate in un qualsiasi supermercato o drogherie Mart come per esempio DM troverete maialini, portafortuna di tutti i tipi di marzapane, di ceramica eccetera. Poi troverete gli spazzacamini che sono un altro simbolo portafortuna e questo set è pensato appunto per sciogliere questi pezzettini di metallo quindi ogni persona ne sceglie uno e quando il metallo è sciolto lo si versa nell'acqua fredda e poi spegnerò tutto e vedremo che luce si proietta sul muro quindi verrà ovviamente una forma perché si va a solidificare nell'acqua fredda e dietro al pacchetto del nostro set ci sono i significati di un sacco di figure quindi poi andrò a vedere che cosa insomma mi sembra la mia ombra che uscirà e vediamo in che modo avrò fortuna secondo questa cosa qua nel 2024. Mettiamo il funghetto portafortuna sul suo cucchiaio ma siccome ho letto le istruzioni e sto gioco mi fa un po' paura ho un guanto da cucina che voi non vedrete sporco con l'olio del ragù dell'altro giorno e quindi questa è una cosa casalinga ragazzi perché poi io mi devo un po' allontanare e quando sarà bollente versare il metallo vabbè andiamo a scioglierlo nel mentre va piano 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 guarda un po' il funghetto si sta sciogliendo sembra un po' il mercurio dei termometri ma io non lo so quando sarà abbastanza liquido per essere versato sembrerebbe ah guardate va che magia che storia io farei il tentativo di versarlo nell'acqua e poi dopo lo tiriamo fuori solido vado eh adesso provo a tirarlo fuori eh io non so se questo è un segno di sfiga o che avrò la fortuna doppia il mio pezzettino di fungo se diviso in due allora non sono riuscita a fare il video mentre facevo l'ombra sul muro perché al telefono non piaceva allora vi metto qua la foto dell'ombra un pezzettino sembra una palla allungata e l'altro pezzettino sembra un una banana che non ci ha creduto abbastanza potrebbe essere una palla che significa un besonnenes verhalten e il pezzettino un po' più lungo potrebbe essere un vaso con tanta fantasia potrebbe essere un vaso che significa du verlibst dich e invece facciamo finta che queste due figure vadano insieme potrebbero essere una la bottiglia e uno il tappo quindi diciamo che è una bottiglia da come significato gute Freundschaft vabbè ragazzi devo dirvi la verità questo gioco antisfiga mi ha lasciato un po' perplessa perché mi c'è voluto tutto il tempo per preparare le cose avevo anche paura di bruciarmi e una micro goccia è anche andata sulla mia gamba ovviamente fatemi sapere se avete provato a fare questa cosa dello sciogliere il metallo e vedere che figura insomma vi esce io vi ringrazio per tutto questo anno trascorso insieme a me sul mio canale e spero che questa nostra diciamo famiglia virtuale vada ad ingrandirsi l'anno prossimo ho già diverse idee di nuovi video pronte per voi ma non vi svelo niente come sempre se il video vi è piaciuto pollice in su noi ci vediamo l'anno prossimo perché questo è l'ultimo video dell'anno ci sarà un piccolo short il 31 quindi aspettatevi quello per diciamo concludere l'anno ragazzi buon anno a tutti divertitevi in questi ultimi giorni abbiate un buon capodanno e appunto un buon inizio di 2024 e noi ci vediamo al prossimo video ciao